Ubriaca di pomeriggio a soli 14 anni. L'abuso di alcol fra i giovanissimi è ormai una vera emergenza anche a Como con episodi quasi quotidiani. Ieri pomeriggio l'ultimo caso nella zona del monumento ai caduti. Impegnati in un servizio di controllo i poliziotti di quartiere notano un gruppetto di ragazzini particolarmente agitati. Fra loro una 14enne visibilmente ubriaca. La ragazza straparla e ha un atteggiamento molesto. Gli agenti si avvicinano per capire se ha bisogno di aiuto. La giovane per tutta risposta inizia a insultare e offendere i poliziotti contestando duramente il loro lavoro. A darle manforte anche un amico più grande della stessa compagnia. Portati in questura i ragazzi vengono identificati e denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale. Vengono chiamati dagli agenti anche i genitori della ragazzina per riportare a casa la 14enne in parte ancora sotto l'effetto dell'alcol. Un episodio allarmante soprattutto per la giovane età dei protagonisti. Ormai ogni giorno si registrano soccorsi di persone colte da malore dopo aver esagerato con l'alcol. Solo nella notte ad esempio è stato necessario l'intervento dell'ambulanza a Bellagio per due ragazze di 21 e 22 anni, entrambe ubriache, per un ventenne nelle stesse condizioni a Orsenigo e per un quarantenne di loro a Goderba. Un'intossicazione etilica anche nel pomeriggio a Como per un 45enne.